Quando ci siamo insospettiti abbiamo monitorato chiaramente con delle immagini i movimenti suoi. I suoi movimenti da alcune settimane erano sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti monitorati con alcune telecamere nascoste. Per l'operaio infedele una 53enne a retino lo scorso giovedì sono scattate le manette. Dopo che è stato sorpreso all'uscita dall'azienda Orafa per la quale lavorava a Pieve alla Toppo con 37 grammi d'oro ben nascosti dentro al portafoglio. Le indagini dei carabinieri erano partite dopo le segnalazioni dei titolari insospettiti da alcuni ammanchi. Conti che non tornavano e un comportamento un po' anomalo, un po' troppo nervoso ultimamente soprattutto. L'operaio infedele era riuscito a portare via pezzetto dopo pezzetto quasi mezzo chilo d'oro. Il metallo veniva infatti nascosto nel macchinario che l'uomo utilizzava per la preparazione dei semi lavorati. Proprio lì dentro i militari hanno trovato una ventina di lamine per oltre 400 grammi. Lui ha mostrato agli carabinieri questa busta con questo metallo, con questo oro che lui aveva occultato nei giorni precedenti. A casa dell'uomo sono stati invece ritrovati quasi 100 kg d'argento, metallo però non proveniente dall'azienda di Badia Alpino. L'operaio dopo la convalida dell'arresto è stato scarcerato con l'obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri. Probabilmente la direttissima nei prossimi giorni sarà celebrata con un rito abbreviato. Adesso resta l'amarezza da parte dei titolari dell'azienda. Siamo una squadra, chiaramente è una grande amarezza, una grande delusione avere una persona in seno, non fedele, che si comporta così, diciamo che è una grande delusione.